Convinti che quello con l'arte sia un incontro fondamentale, emozionante e formativo per ogni bambino e bambina, abbiamo chiesto a diverse personalità del panorama bergamasco di regalarci un loro ricordo di infanzia legato al mondo dell'arte e della cultura in generale. In molti casi questi incontri sono stati veri e propri semi di bellezza che hanno continuato a germogliare. Ciao Scotch! Leggiamo un po' insieme? Leggiamo un po'. Sì, perché il mio primo incontro quando ero piccola, bimba con l'arte, in realtà è tutta colpa sua. E' infatti tutta colpa di Lessie, perché quando ero bambina andava di moda questo film che aveva come protagonista questo bellissimo pastore scozzese che era appunto Lessie. Quindi, come tutti i bambini di quell'età, io desideravo tantissimo poter avere un colli, poter possedere un cane come Lessie, però non potevo averlo. E allora mi sono inventata un modo per poter avere comunque la compagnia di Lessie. Come? Ho iniziato a disegnare. Disegnavo, disegnavo, Lessie da tutte le parti. Fino a quando i miei genitori un giorno mi hanno regalato la mia prima tela e i miei primi colori a olio. E il primo dipinto che io ho fatto quando ero piccola, davvero molto piccola, sono stata proprio una coppia di Lessie. Da questo momento l'amore per l'arte non mi ha davvero mai lasciato. E adesso vi racconto qualcosa dell'incontro degli anni successivi. Il secondo vantaggio della mia infanzia, oltre ad aver iniziato a disegnare Lessie, è che abitavo in una grande casa, una bellissima casa di fine ottocento, dove vieno diversi affreschi, diverse opere d'arte anche delle pareti. E soprattutto avevo una bella biblioteca. Mio padre aveva acquistato tempo prima la raccolta dei maestri del colore, una raccolta di fascicoli dedicati a singoli pittori. Sono stati per me una vera folgorazione. Passavo pomeriggi, pomeriggi interi, specialmente d'estate, dalla scuola, a sfogliare e a studiare queste bellissime immagini. Noi adesso siamo abituati che su internet si possono ottenere tutte le immagini, ma a un tempo queste erano davvero l'unico modo per venire a contatto con l'arte. E allora ho iniziato a coltivare sempre di più questa passione, fino ad aver scelto di frequentare una scuola d'arte, la scuola d'arte Andrea Pantoni. Quindi decisi di frequentare questa scuola d'arte, che fu davvero per me fondamentale. Non solo perché ho avuto modo di studiare profonditamente la storia dell'arte e dalla storia dell'arte io ho trovato sempre un motivo di grandissimo divertimento, di grandissima gioia. Proprio nello studiare come l'uomo cercasse di trovare modo per dare forma, colore in modo assolutamente poetico a dei contenuti, a dei contenuti anche profondissimi. E ho avuto modo di imparare tante tecniche pittoriche, la fresco, l'olio, la tempera, l'acquarello, il carboncino. Tutto un bagaglio di esperienze che mi è stato poi utilissimo anche nella mia vita successiva. Ho poi deciso di fare l'architetto, ma questo grandissimo amore per l'arte, in modo particolare per l'arte del passato, mi ha poi portato a occuparmi di restauro dei monumenti e intraprendere questa strada. Semmari un rammatico che ho è quello di non aver potuto coltivare la conoscenza musicale, quindi l'educazione alla musica. Non ho mai imparato a suonare uno strumento, ma ho sempre amato profondamente la musica e mi sono avvicinata alla storia della musica, in modo particolare naturalmente della musica classica, proprio sempre partendo da questo interesse, da questo amore profondissimo nei confronti dell'arte. Che, ripeto, per me è stato un alimento, un alimento di vita che mi ha sempre dato gioia, mi ha sempre consolato anche nei momenti più tristi e la creatività è sicuramente uno degli aspetti più importanti da coltivare, perché la creatività ti aiuta poi a superare tantissimi problemi, a trovare tantissime soluzioni, anche in altri ambiti che non sono assolutamente quegli artistici. Quindi io quello che posso raccomandare a tutti i ragazzi e alle loro famiglie è non perdete l'occasione per conoscere innanzitutto le nostre bellezze, perché se le conosciamo le amiamo e impariamo anche a custodirle, impariamo anche a difenderle e impariamo a farci carico di questa attenzione per poter trasferire anche tutte queste bellezze a chi verrà dopo di noi, i nostri figli, i nostri nipoti. Non perdiamo l'occasione per affrontare, per conoscere temi nuovi, artisti nuovi, esperienze nuove. È un universo in continua evoluzione ed è un universo che sicuramente può dare soddisfazioni a tutti i nostri gusti e tutti i nostri interessi. Quindi come dire buona arte a tutti!